Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti in questo video di calciomercato dedicato all'Ella Severona e al colpo Federico Bonazzoli In questo video andiamo a definire qual è la formula con cui il giocatore si è trasferito all'Ella Severona e poi andando a ripercorrere brevemente la sua carriera definiamo nelle sue caratteristiche tecniche quindi quali sono i suoi punti di forza, i suoi punti di debolezza, come interpreta il ruolo qual è il ruolo ideale nello scacchiere tattico di Baroni all'Ella Severona tutto quello che c'è da dire in ottica Verona su questo colpo di mercato ma anche in ottica salernitana che lo ha ceduto perché sendo il trasferimento interno del nostro campionato lo valuto da entrambe le parti concluderò il video con un voto da 0 a 10 che sintetizza tutto il mio pensiero per entrambe le squadre e una chicca fantacalcistica ovviamente per gli appassionati di questo gioco allora cominciamo con la formula, il giocatore si trasferisce dalla salernitana all'Ella Severona con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni quali sono le condizioni? Sono condizioni molto vincolanti ossia l'Ella deve salvarsi e simultaneamente Bonazzoli deve segnare almeno 10 gol quindi devono verificarsi entrambe le cose affinché scatti l'obbligo di riscatto altrimenti rimane diritto di riscatto qual è la cifra prefissata sul diritto di riscatto? 3 milioni di euro quindi a prescindere che scatti l'obbligo o meno il costo dell'eventuale riscatto al termine della stagione è fissato sui 3 milioni di euro inoltre qualora l'Ellas dovesse riscattare il calciatore al termine della stagione la salernitana comunque si manterrebbe un 10% dell'eventuale futura rivendita questo è per quanto riguarda il trasferimento non sono riuscito a trovare dati relativi al contratto che Bonazzoli ha firmato col Verona o meglio li ho trovati ma ho trovato un banalissimo Bonazzoli ha firmato un contratto col Verona fino al 30 giugno del 2024 quindi al termine della stagione dopodiché se scatta il diritto di riscatto o l'obbligo il contratto proseguirà perché se no tu riscatti un calciatore per svincolarlo immediatamente che senso ha però non sono riuscito a trovare il precontratto che eventualmente il Verona avrebbe già stipulato con Bonazzoli in caso di riscatto quindi su quello non ho informazioni se qualcuno ce le ha prego scrivano i commenti sono andato anche a cercare in articoli di testate locali del Verona ma questa informazione non sono riuscito a trovarla quindi se qualcuno ha informazioni scrivano i commenti per completezza anche dei contenuti sul canale bene veniamo a ripercorrere brevemente la sua carriera calciatore cresciuto nelle giovanili dell'Inter che da giovane insomma sembrava poter essere un prospetto importante ma del resto tutti i calciatori che escono dalle primavere prestigiose prestigiose perché primavere prestigiose sono anche l'Atalanta, il Sassuolo, l'Empoli, lecce io parlo di società grosse come prima squadra quindi Inter, Roma giocatori che escono da queste squadre generalmente tutti vengono considerati grandi promesse Esposito però ebbe anche qualche piccola comparsa con la prima squadra dell'Inter senza però poi trovare spazio con continuità e ha cominciato a cercare fortuna altrove ecco che l'Inter lo vendetta alla Samp Doria che puntò su di lui perché lo acquistò appunto pagandolo una discreta cifra 4.600.000 euro nel 2014 quindi si sta parlando di quando Bonazzoli aveva 17 anni quindi la Samp ha puntato su di lui proprio a livello di giovanile proprio come prospetto ma alla Samp Doria ha fatto fatica ad ambientarsi anche perché comunque in Italia c'è questa cultura che se un giocatore è giovane inteso come under 20 in Serie A ci possa giocare mentre invece se è straniero sì c'è un po' questa cultura quindi ha cominciato la girandola di prestiti in Serie B prima alla Virtus Lanciano e poi al Brescia dove ha giocato con continuità senza però essere particolarmente incisivo in zona goal diciamo che il prestito quello che lo ha lanciato poi alla Samp è stato quello al Padova del 2018 dove nella stagione 18-19 ha giocato titolare l'intera stagione non è arrivata la doppia cifra di gol però ha segnato 8 gol trovando più che una media realizzativa soddisfacente perché ha 8 gol in Serie B chiaramente se puoi fare l'upgrade in Serie A non è che puoi avere chissà che media realizzativa però un calciatore che era diventato un riferimento del Padova un giocatore che coagulava i reparti e che quindi poi alla Samp è stato riproposto come alternativa però poi nell'anno successivo alla Samp ha avuto delle chance e ha anche segnato tanto perché su 19 apparizioni ha timbrato il cartellino 6 volte e da lì il prestito al Torino era un prestito con diritto che poi non è stato esercitato perché al Torino Bonazzoni non è riuscito a trovare diciamo la consacrazione il trasferimento al Torino doveva essere a rampa di lancio definitiva invece il giocatore non si è lanciato ed è quindi poi stato prestato alla Salernitana dove invece il giocatore è esploso definitivamente nell'anno clamoroso della salvezza della Salernitana con Nicola Bonazzoni fu il trascinatore insieme a Simone Verdi e furono i due calciatori anche Diuric che tra l'altro è proprio al Verona però Diuric è più come lavoro sporco invece Verdi e Bonazzoni proprio dal punto di vista realizzativo segnarono tanti gol però Bonazzoni è stato proprio l'uomo simbolo a livello di gol che ha trascinato la Salernitana segnando ben 12 gol nella stagione tra Campionato e Coppa Italia tant'è che la Salernitana lo ha riscattato lo ha riscattato pagandolo mi sembra 5 milioni però poi l'anno successivo l'esplosione di Dia e poi l'arrivo di Paolo Sosa che con il cambio modulo ha fatto fatica a integrare Bonazzoni lo hanno relegato ai margini del progetto Salernitana e quindi ora arriva all'Ellas per cercare una seconda consacrazione dopo quella che aveva avuto due stagioni fa con la Salernitana allora veniamo alle sue caratteristiche tecniche allora Bonazzoni per quanto mi riguarda è una seconda punta pura non può fare il centravanti di riferimento quindi nell'eventuale 4-3-3 o 4-2-3-1 perché attualmente il Verona nella pre-season ha giocato il 4-2-3-1 ma io penso che sia un 4-2-3-1 più che per scelta per necessità cioè il Verona non ha mediani mentre invece ha una buona batteria di sottopunte perché c'è Lazovic, c'è Ngonge, c'è Mbulacchia che è arrivato trovate il video sul mio canale relativo a Mbulacchia c'è Saponara, c'è Duda che comunque originariamente è un trequartista poi viene schierato Mediano perché non c'è nessuno però originariamente anche Duda è un trequartista e quindi c'è una batteria ben fornita di sottopunte e il Verona ha giocato col 4-2-3-1 la pre-season però non so se poi tornerà al 4-3-3 che è un po' il modulo di riferimento di Baroni oppure se proseguirà su questa strada fatto sta che Bonazzoni secondo me come punta di riferimento è inadatto perché non ha la fisicità che gli permette di poter contrastare o quantomeno di poter sopportare contrasti dei difensori centrali del nostro campionato che marcano a uomo il centro avanti non ha la fisicità per difendere palla per giocare spalla alla porta per aprire gli spazi ai compagni non ha capacità aeree non è bravo nel gioco aereo quindi è un giocatore che secondo me messo lì in mezzo all'area di rigore in mezzo ai difensori avversari lo annulli, lo cancelli quindi come centro avanti Bonazzoni secondo me non è assolutamente indicato e anche a Salernitana infatti poi col cambio di modulo Bonazzoni è stato scartato diciamo anche nelle scelte di Paolo Sosa è una seconda punta quindi per me in un 3-5-2 che era quello che faceva la Salernitana con Nicola può fare la punta di supporto quindi il Verona può ricreare diciamo la coppia di Uric Bonazzoni che tanto bene fece alla Salernitana con di Uric che dominava i duelli aerei che serviva il pallone a Bonazzoni che poi è molto bravo a muoversi negli spazi è molto bravo a leggere le situazioni arriva quasi sempre lui sulle seconde palle sulle respinte sui palloni vaganti ha una buona tecnica di calcio ha un bel sinistro però è discretamente bravo anche col piede destro ha soluzioni balistiche interessanti anche acrobatiche è un giocatore che ti trova soluzioni anche importanti cioè non solo quelle scontate ma da determinate zone di campo che per tanti calciatori possono essere innocue Bonazzoni ti può creare qualcosa anche sotto il punto di vista dell'assist del filtrante, dell'imbucata è un giocatore che si esalta comunque negli spazi sia lui quando il possesso palla ce l'hanno i compagni che attacca gli spazi perché è molto intelligente a muoversi ma anche quando la palla ce l'ha lui si esalta se ha spazio se ha l'uomo addosso che gli morde le caviglie va un po' in difficoltà perché appunto non ha grandissima fisicità e da fermo non ha la tecnica sopraffina che può avere un saponara per intenderci giocatore che ha più bisogno della corsa dello sprint per poter essere pericoloso anche nell'uno contro uno quindi è un calciatore che può essere molto molto impattante nei contropiedi nella profondità e nel dialogo tecnico con i compagni quindi io immagino un tridente dietro la punta Lazzovic a sinistra Angongia a destra Bonazzoni nel mezzo sono pericolosi perché sono calciatori che tendono ad accentrarsi a dialogare tra di loro e a giocare palla a terra corto e sono difficili anche da contrastare per una difesa anche organizzata quindi Bonazzoni lo vedo un po' così come sottopunta nel 4-2-3-1 nel ruolo che è anche di saponara ma lo interpretano in maniera differente perché saponara è un calciatore che si esalta da fermo mentre invece Bonazzoni è un giocatore che si esalta nel dinamismo sono giocatori completamente diversi anche che possono giocare insieme però chiaramente quando ha Angongia e Lazzovic far giocare insieme Bonazzoni e saponara implicherebbe cancellare gli esterni che è una cosa che essendo Lazzovic e Angongia probabilmente i due giocatori di maggior qualità del Verona sarebbe francamente una scelta azzardata fermiamoci a dire azzardata quindi io penso che Bonazzoni sia un calciatore che vada un po' integrato il Verona in questo mercato l'ho visto un po' come si può dire un po' disorientato cioè non è riuscito a vendere quei calciatori su cui avrebbe potuto monetizzare tanto che si sa chi sono cioè Ian e Doig e quindi si è ritrovato a dover vendere magari un Sulemana che secondo me non era da vendere e a poco perché ci ha monetizzato poco ed era un calciatore che poi vedendo la penuria di Mediani faceva molto comodo quest'anno e si è trovata disorientata anche sugli acquisti cioè ho visto quasi tutti arrivi o a parametro zero svincolati calciatori occasioni di mercato non c'è un disegno progettuale nella costruzione della rosa e Bonazzoni stesso è un po' la dimostrazione di questo non mi sembra un calciatore che ci può stare né nel 433 né nel 4231 oltre al fatto che c'è abbondanza comunque in quella zona di campo perché comunque appunto c'è Saponara c'è Lazovic c'è Ngongi c'è Mbulava e a metterne un quinto quando poi sulla mediana c'è solo Ungla che tra l'altro secondo me in una squadra di serie A dovrebbe fare la riserva no? cioè la coppia di Mediani che nel 4231 ti avrebbe potuto far bene a livello di muscolo e di dinamismo che erano Sulemane e Tamez li hai venduti entrambi e ci hai fatto poco più di 6 milioni quindi tra l'altro Tamez è pagato in due rate quindi cioè veramente li hai venduti a poco adesso hai una buca lì nel mezzo e vanno fatti investimenti lì è lì che il Verona è in crisi assoluta invece vedo sembrerebbe anche pronto ad arrivare Folloruncio dal Napoli ma perché anche quello è un giocatore praticamente fuori rosa del Napoli è un'opportunità però vedo un Verona molto confuso ecco nella costruzione della squadra Bonazzoli è un giocatore che a me piace che in assoluto secondo me è un calciatore che deve trovare l'ambiente giusto per esprimersi è un classe 97 quindi non dico sia all'ultimo treno della carriera perché hai 26 anni però è l'età giusta per trovare la dimensione idonea e quindi io penso che Verona a livello di valore assoluto possa anche essere la sua dimensione però per come gioca il Verona per quelli che sono i reparti no l'abbondanza o la siccità nei vari reparti il modulo Bonazzoli non ce lo vedo bene cioè va integrato molto e è un'alternativa è un'alternativa di qualità di grande qualità gratis perché praticamente prestito gratuito e l'obbligo di riscatto è praticamente improbabile perché ora già a nastri di partenza se Verona non prende dei mediani per quanto mi riguarda la salvezza è un miraggio però anche dovesse salvarsi che Bonazzoli faccia 10 gol praticamente deve guagliare il suo record di carriera insomma la vedo la vedo molto pretenziosa quindi l'obbligo di riscatto è difficile che scatti Verona si può si può ottenere un buon giocatore che secondo me non sarà titolare ma può essere una buonissima alternativa dalla panchina che è a costo zero per un prestito annuale che comunque ti va a tappare una buca però non è quello di cui aveva bisogno il Verona assolutamente cioè il Verona ha bisogno di altri giocatori in un'altra zona del campo dove la situazione è drammatica quindi non approvo il colpo non in assoluto perché a me Bonazzoli ripeto piace ma perché io il Verona che continua a prendere trequartisti sotto punta esterni di attacco e poi sulla mediana c'è il Primavera io non non la comprendo ecco questa questa situazione anche perché vi ripeto Duda secondo me è un trequartista quindi non lo so vedremo insomma come si andrà a sviluppare la situazione però è un colpo che non mi lascia particolarmente convinto nonostante il calciatore ribadisco mi piaccia quali sono i punti deboli di Bonazzoli perché non è solo bravissimo altrimenti gioerebbe nel Real Madrid punti deboli sono uno la freddezza sotto porta calciatore che sbaglia tanto spesso molto frettoloso quando è in area di rigore è più pericoloso paradossalmente fuori dall'area che dentro l'area perché quando è dentro l'area tende ad come si può dire ad affrettare la conclusione le decisioni quindi spesso poi magari non riesce a coordinarsi bene oppure calcia un po' alla così come come viene senza prendere la mira o scegliere bene perché poi alla fine quando arrivi davanti al portiere la differenza la fa proprio la scelta del tipo di calcio se di piatto se fare il cucchiaino se calciare rasoterra se alzare il pallone sono tutte scelte cose che fai qui no? perché poi l'esecuzione tecnica il più delle volte quando sei in una posizione di campo favorevole vicino alla porta l'esecuzione tecnica per calciatori di serie A non è difficile è la decisione che fa la differenza e Bonazzoli spesso sbaglia la scelta ecco negli ultimi 16 metri è un po' quello mentre invece come vi dicevo prima in campo aperto con gli spazi è devastante mentre negli ultimi metri gli si annebbia un po' la vista la stagione da 10 gol al Sanitana è stata una stagione importante sicuramente il suo record e tra l'altro se non erro Bonazzoli in quella stagione batteva anche i rigori però si sta comunque parlando di un calciatore che che ha avuto questo lampo ma non ha mai dato l'impressione di poter raggiungere numeri così con continuità io non mi aspetto da Bonazzoli 10 gol in campionato me ne aspetto 4-5 e e un gioco che che comunque vada ad attirare l'interesse degli avversari perché comunque è un giocatore pericoloso quando ha la palla tra i piedi però non è lui in prima persona il pericolo poi dal punto di vista realizzativo e Verona anche sotto questo punto di vista almeno che Baroni non riesca a rispolverare Henry che secondo me è un buonissimo attaccante per caratteristiche e Verona ha qualche problemino lì perché comunque sono tutti calciatori quelli del Verona che non è che vedano la porta con grandissima con grandissima frequenza tranne forse in gonge quindi c'è bisogno sicuramente di 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 una grande batteria di calciatori perché poi alla fine se ti fa 5 gol Bonazzoli 8 on gonge 4 di Uric 5 Lazovic 5 Saponara 4 Umbula e te ne fa 6 Henry e così poi alla fine a 30-35 gol ci arrivi con il reparto offensivo e e possono essere sufficienti per raggiungere la salvezza no? cioè senza avere magari senza neanche raggiungere nessuno in doppia cifra ce la puoi fare se crei questa batteria no? di di calciatori però se non hai mediana e poi ne prendi 3 a partita quindi poi non risolvi niente quindi davanti secondo me nonostante manchi il bomber e se Baroni riesce a lavorare bene con Henry si può risolvere il problema sulla mediana il problema è cioè non è che c'è un problema non c'è niente cioè avete presente i film western che c'è la balla di fieno che rotola no? col fischietto in sottofondo quella è la mediana del Verona è una cosa che io io raramente ho visto una squadra tre giorni dall'inizio del campionato con un reparto in queste condizioni veramente mai vista una cosa del genere vediamo se se il Verona ci sorprenderà nelle ultime due settimane di mercato trovando qualche offerta e anche insomma allettante e funzionale a quelle che sono le necessità della squadra torniamo ai difetti di Bonazzoli questo è sicuramente quello più importante cioè la poca capacità finalizzativa è anche l'uscire dalla partita molto spesso cioè è quel classico calciatore che se non è in partita lo può togliere cioè non è uno di quelli che ha i lampi i lampi del campione no? per dire Lazovic fa così Lazovic ogni tanto non lo vedi per mezz'ora dice ma c'è sempre in campo poi magari ti fa la sgasata e attacca lo spazio bene mette il cross pennella il cross perfetto sulla testa del compagno e ha fatto la giocata e ha fatto vincere la partita Lazovic fa così ogni tanto si assenta anche perché l'età non è più quella di un tempo quindi magari ha bisogno anche di prendere fiato non è che può correre per 90 minuti e quindi gestisce le energie Bonazzoli non è così cioè non è uno che si assenta la partita ma poi magari ti fa il lampo decisivo no Bonazzoli è uno che se in partita non c'entra lo puoi togliere dal campo perché tanto proprio se mentalmente non è tarato sul match out si può togliere ed è il motivo per cui poi non è non è riuscito secondo me a convincere meno Paolo Sosa perché nel 3-4-2-1 è la Salernitana Bonazzoli come sottopunta vedendo anche il mercato della Salernitana che praticamente sta facendo nulla ci poteva stare nel senso tu parti con Candreva e Castanos come titolari ma avere Bonazzoli come riserva invece che doverci adattare un maggiore invece che doverci adattare un botheim secondo me ci potevano stare nel senso Bonazzoli era un'alternativa importante come sottopunta era forse anche il suo ruolo ideale quindi perché la Salernitana l'ha regalato se l'ha levato dalle scatole senza nemmeno avere la garanzia poi di poterci monetizzare il prossimo anno con l'obbligo di riscatto perché probabilmente questa sua attitudine a sparire dalla partita non è piaciuta a Paolo Sosa che preferisce un Castanos che magari ha meno qualità dal punto di vista puramente numerico e di impatto nel campionato ma è più costante nella partita Castanos stocca tanti palloni si propone tanto mentre invece Bonazzoli ogni tanto dici ma oggi c'è oggi non c'è e così e questo sicuramente a Paolo Sosa non piace perché alle sue sottopunte chiede tanto lavoro proprio di supporto tanti palloni toccati Bonazzoli questo non lo faceva quindi è secondo me un jolly dalla panchina che può essere utile può anche portare dei punti può anche essere determinante in alcuni match è un po' quello che era l'anno scorso magari Gaic quest'anno può essere Bonazzoli secondo me Bonazzoli meglio di Gaic però è un colpo così è un colpo per la panca per le occasioni non è non è un colpo che ti va a migliorare l'undici titolare soprattutto in un reparto dove comunque al di fuori che puoi saponare Alazzo ci sono giocatori molto fragili eri abbastanza coperto quindi che voto do a questa operazione ma al Verona do un 5 e mezzo perché il giocatore di per sé a me piace però non lo vedo bene nello scacchiere tattico di Baroni a meno che tu non vuoi ricreare la coppia di Uric e Bonazzoli ma ti tocca stravolgere tutto di nuovo poi magari stravolgi tutto e torni tra virgolette alle origini fai un 3-4-2-1 con Gonj e Bonazzoli dietro a Diurice con Lazović esterna tutta fascia a sinistra con Faraone o Terracciano esterna tutta fascia a destra e ricrei il Verona tipo allora può avere una logica anche questa operazione di mercato però tutta la precision l'ha fatta al 4-2-3-1 cioè perché adesso devi prendere il calciatore per stravolgere tutto di nuovo non mi torna quindi Bonazzoli non lo vedo molto bene nello scacchiere tattico del Verona non è il calciatore che secondo me serviva se il Verona doveva rinforzare qualche reparto sicuramente non era quello delle sottopunte ma è quello della mediana è un'operazione poco futuribile perché difficilmente poi il Verona lo riscatterà quindi è un colpo di mercato che sinceramente non non mi entusiasma e anche per Bonazzoli secondo me ci potevano essere come si può dire delle delle destinazioni migliori per poter emergere di più per poter avere un pochino più di spazio c'erano delle destinazioni migliori anche per lui secondo me però non sono qui per fare il giudice di nessuno però per me il Verona è un'operazione da 5 e mezzo per la Salernitana diciamo che è un'operazione da 4 e mezzo perché è una cessione che non ti porta soldi che probabilmente non ti valorizza il giocatore perché al Verona secondo me non è sicuro che sarà titolare quindi ti ritornerà molto probabilmente a fine anno non valorizzato ancora più scontento e quindi sarebbe stato meglio cercare un'altra destinazione poi magari Buonazzoli non avrebbe accettato la serie B però cioè se tu devi cederlo con un obbligo riscatto a 3 milioni cioè con un diritto riscatto a 3 milioni era forse a questo punto meglio cercare una cessione a titolo definitivo a 2-3 milioni qualcuno secondo me te lo prendeva cioè a 3 milioni Buonazzoli è comunque un buon affare non mi sembra un giocatore che non valga quella cifra sinceramente se lo metti penso ad esempio non faccio un esempio un Cagliari che ha preso Shomurodov poteva prendere Buonazzoli a 3-4 milioni e aveva un calciatore da mettere lì come seconda punta no? per farvi un esempio cioè ce lo vedevo bene un Buonazzoli al Cagliari nel 4-4-2 di Ranieri per fare un esempio quindi ecco diciamo che tra l'altro è proprio con Ranieri che fece quegli scorci mi sembra che fu proprio con Ranieri che Buonazzoli fece quei 6 gol con la maglia della Samp per cui l'avrei visto forse meglio lì ecco dico anche in ottica salernitana per poterci monetizzare perché secondo me il giocatore ti rientra fra un anno svalutato e ancora più scontento quindi non è la destinazione giusta e poi comunque tu sei andato a dar via Buonazzoli non hai riscattato Piontek e adesso te comunque in quella zona di campo c'è Candreva e c'ha 112 anni c'è Castanos c'è Diai c'è Botheim nel senso c'è Valencia ok però sei un po' corto di tre quartisti puri comunque di sottopunte sei un po' corto e invece il reparto dove dove Sosa pretende più qualità quindi Buonazzoli prima di silurarlo così magari avrei preso un'alternativa vabbè ma comunque sono opinioni mie 5 e mezza per una 4 e mezza la serenitana al fantacalcio ovviamente il giocatore non è consigliato perché non si capisce nemmeno di chi possa essere l'alternativa se di Ingonge se di Saponara se di Lazzo invece se di Diuric non si capisce niente cioè non non si capisce il giocatore di che di se sarà titolare io penso di no qualora dovesse essere una riserva di chi quindi è un calciatore che in fantacalci molto numerosi potete prendere come ultimo slot e sperare nella scommessa magari si rompe il crociato qualcuno diventa titolare e fa una bella stagione ma sono sono situazioni molto estemporane quindi al fantacalcio sinceramente non lo prenderei in considerazione il mio video si conclude qua vi invito a scrivere nei commenti cosa ne pensate di questa operazione di mercato se siete d'accordo o meno col mio pensiero comunque scrivete tutto quello che vi passa per la testa aspetto il commento di Gianluca che mi scriverà il solito papiro con tutte le sue considerazioni mi illuminerà sul mondo del Verona perché chiaramente io da fuori determinate dinamiche magari mi spiegherà anche come mai magari è stato preso con questa formula perché arriva lui perché mediani ci sono eccetera eccetera sicuramente mi apre più cultura sul mondo dell'Ellas quindi scrivete comunque tutti nei commenti perché migliora proprio il contenuto del mio canale iscrivetevi al canale se non lo siete per supportarmi se volete anche altri video sul Verona ma vi avviso subito che salvo imprevisti dovrei portare anche la prima giornata no cioè Verona scusate in Poliverona dovrei portare il post partita di quel match no quando giocheranno le due squadre noi ci vediamo come sempre ai prossimi video dedicati alle altre operazioni di mercato ufficiali di questo calciomercato di serie A un carissimo saluto a tutti ciao